Salve a tutti, piccolissimo vlog, ma proprio veloce veloce veloce. Scusami se non stanno più video, però domani inizio a caricarle, c'erano alcune in servo, eh? E arriveranno anche nuove serie, ma qualche nuove serie. Vevo dire due cose, uno stavo pensando di fare un piccolo giveaway per il canale, si prova a farlo. E poi una piccola idea, ma proprio piccolissima. Sto partecipando, devo partecipare a un progetto scolastico, di costruire una casetta con i led di intermittenza, programmati con questo magico aggeccino, riesco a staccarlo con questo aggeccino che è l'arduino. Lo programmiamo insieme, lo programmo, lo serve anche in alimentatore, giusto? Vedete, vi faccio il software, vabbè. Che ne dite se facciamo alcune fasi della creazione, lavorazione, quindi della creazione della casa, del montaggio e della programmazione, lavorarci un po' insieme. Quindi, scrivete nei commenti, se volete che faccio questo piccolo progettino insieme. Quindi, andremo avanti insieme, mi darete un po' di idee, se io riesco a realizzarle. perché proprio sarà presentato nella mia scuola e quindi lo userò lì. Questo è il mini progetto che ho già fatto, ho già elaborato, qui con tutte le misure. e qui ci stanno... Questa è grandezza naturale, proprio rispetto alla mia mano. Guardate... È grande quanto la mia mano questa casa. C'è anche il cammino, eh? Guardate... Come è la mia... La mia mano. Queste sono proprio le grandezze. E questo è il piccolo progetto che voglio portare, quindi... scrivete nei commenti, se volete che faccio questo... Ehm... Come si chiama? Questa... Mini serie, ecco, di top puntate in cui costruiamo insieme questa casa, la programmiamo... Cosa dovrebbe essere, ecco? Una casa con... I led che muovono, scusate per il rumore. I led che aumentano l'intensità e diminuono l'intensità. Vabbè, per questo vlog è tutto. Mi dispiace per le voci, però, vabbè. E... Proprio velocissimo, che caricherò proprio ora stesso, durante il lavoro. Ehm... Incomincio già a lavorarci alla programmazione per... Vi prendo un po' la mano, faccio programmi banali per prendere la mano di programmare. Ehm... Questo forse ci si fa anche giveaway, sto organizzando. Tutto per... E nuove serie, quindi... Ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace, iscrivetevi... Se volete seguirmi, ecco. Nei commenti, iscrivetevi sì o no alla casa. Quindi, si progetto, no progetto. Cioè, se sei d'accordo, hashtag si progetto. Se non sei d'accordo, hashtag no progetto. Lo trovate in descri... Cioè... In descrizione. Trovate tutti i link, tutti. Forse faccio anche un piccolissimo canale telegram. Quindi, commento. Sì e no, sia per il progetto. Sì e no, sia per telegram. E poi, dal prossimo episodio. Tutti i link in descrizione. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!